Fiaccole, ramoscelli e corone d'ulivo sono i simboli della marcia che ha percorso le vie di Oria. Un centinaio di partecipanti al corteo organizzato dal popolo degli olivi in memoria dei 47 alberi secolari sradicati durante il blitz della forestale del 7 luglio scorso. Eravamo molto preoccupati che a Oria potesse succedere qualcosa. Non eravamo pronti a tutto quello che abbiamo visto però. In prima fila il sindaco della città federiciana Cosimo Ferretti che delle operazioni di espianto nel suo comune non era stato nemmeno avvisato. Finora le sue richieste di chiarimento non hanno ancora avuto risposta. È stato un peccato e deve essere chiarita questa faccenda. Deve essere chiarita per non commettere soprattutto altre di queste cose. Tra i manifestanti anche i proprietari degli oliveti interessati dalle eradicazioni e decine di attivisti provenienti dal capo di Leuca e dal Tarantino. Io me ne andai a casa e poi dovevo tagliare. È giusta questa cosa? Si sospendono immediatamente eradicazioni, uso di veleni e dopo si pensi a capire perché gli alberi stanno seccando. L'idea nostra è proprio quella di cercare di bloccare l'eradicazione perché si rischerebbe di creare un danno inimmaginabile dal punto di vista economico, ambientale. Intanto per bloccare ulteriori abbattimenti gli ambientalisti si mobilitano organizzando piccole ronde campestri. Siamo attivisti, li stiamo aspettando. Siamo attivisti, li stiamo aspettando. Siamo attivisti, li stiamo aspettando.